Sono Flavia Benazzi, infermiera case manager dell'unità operativa di pneumologia dell'ospedale Morgani di Forlì. Il nostro reparto di pneumologia è stato il primo reparto Covid nell'azienda di Forlì a accogliere i pazienti malati. Noi ci siamo trovati rapidamente e velocemente a stravolgere la nostra quotidianità lavorativa affrontando un modo di lavorare completamente nuovo, diverso da tutto quello che fino ad oggi avevamo affrontato. Il nostro obiettivo fondamentale, principale comunque nella quotidianità è stato sempre e solo il paziente. Abbiamo in questo modo dovuto lasciare da parte la nostra emotività facendoci carico del paziente a 360 gradi e nello stesso tempo prendendoci cura anche di noi colleghi perché ci siamo osservati, supportati, aiutati durante tutta la nostra attività lavorativa. La sofferenza abbiamo provato a descriverla con le parole ma questo non è possibile perché mettere in parola quello che noi abbiamo visto è veramente veramente difficile.